Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo di Covid. Preoccupa sempre più l'indice RT che torna all'1% in Italia. Mezza nazione a rischio zona arancione. Tra poche ore l'annuncio del ministro Speranza. Accordo sui vaccini tra l'AS Napoli 3 Sud e i medici di base. Abbiamo ascoltato il direttore generale Gennaro Sosto. A Torre del Greco parte la fase successiva delle vaccinazioni per gli ultraottantenni. Il comune concede all'AS Napoli 3 Sud il suolo della Santissima Trinità per la campagna vaccinale. Solidarietà a Torre del Greco. Una ditta della città ha donato un automezzo ad un istituto religioso in Albania. Poi spazio allo sport con la Turris che è chiamata a vincere per voltare pagina. Il futuro dei corallini in C passa per la trasferta contro la Paganese. Atterrato ieri sera su Marte il rover Perseverance. Due anni per scoprire tracce di vita sul pianeta russo. Grande l'emozione nella sede della NASA. Questo è d'altro. Guardiamo i servizi. E' attesa per il nuovo emendamento che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore. L'indice RT a livello nazionale torna sopra il livello di guardia dell'1%, effetto della variante inglese che preoccupa la comunità scientifica, divisa tra l'ipotesi di un lockdown totale e quella di un lockdown mirato. Dati che confermano l'ampia diffusione del virus nel paese, sulle quali è cominciata l'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità. Per questo appare inevitabile ricorso a chiusure e limitazioni, con la possibilità di individuare zone rosse localizzate nelle province. Un'opzione che potrebbe essere già sul tavolo delle istituzioni, chiamata a sciogliere gli interrogativi in breve termine. Mezza Italia rischia dunque la zona arancione, compresa anche la regione Campania, dove un contagiato su quattro è affetto dalla variante britannica, così come reso noto dall'ultimo studio dell'unità di crisi. Inoltre, ieri durante un lungo vertice con i manager delle ASL, il governatore Vincenzo De Luca avrebbe chiesto di aumentare quanto più possibile la disponibilità di posti letto Covid negli ospedali. Dietro questa richiesta c'è il timore che la regione possa essere travolta dalla terza ondata, mentre la campagna vaccinale è solo agli inizi. La situazione resta critica soprattutto nell'area vesuviana. In particolare, continuano a preoccupare gli ultimi dati registrati a Torre Annunziate e Castellammare di Stabio, mentre a Torre del Greco, ieri è stata registrata la centesima vittima da inizio pandemia. Non meno preoccupante la situazione relativa alle scuole, tenuta d'occhio in maniera oculata dalle istituzioni. Notizia anche sul fronte ai vaccini. Nella giornata di oggi, l'ASNapoli 3 Sud sigla l'accordo che prevede il via libera alla somministrazione dei vaccini, con l'impiego dei medici di medicina generale. Il tutto mentre le regioni si interrogano sulla possibilità di poter acquistare dosi extra agli accordi stabiliti dalle case farmaceutiche ed i paesi comunitari. Filmato l'accordo dall'ASNapoli 3 Sud e di medici di medicina generale per la seconda fase del piano distribuzione dei vaccini. Si tratta di uno dei primi accordi a livello nazionale, il primo siglato nella regione Campania. Questa mattina abbiamo intervistato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Gennaro Sosto. È un accordo che è teso a un coinvolgimento sia dell'istituzione comune, molte delle quali ci stanno supportando nelle individuazioni di siti presso i quali eseguire la campagna vaccinale, sia ad avere il contributo dei medici di medicina generale che presso quei siti che i comuni ci stanno dando a disposizione andranno ad eseguire la campagna vaccinale insieme all'azienda sanitaria Napoli 3 Sud. È uno dei primi accordi che si chiude su scala nazionale, è sicuramente il primo che si chiude qui in Campania. Quando riguarda il comune di Toro del Greco, oggi è stata annunciata l'offerta della struttura Santissima Trinità. Sono state individuate altre sedi nel territorio comunale? Non ancora. In questo momento l'idea è di far partire una prima sede vaccinale per ogni distretto sanitario. Quando partirà la campagna vaccinale per gli anziani? Campagna vaccinale per gli anziani è ovvero 80 già partita, stiamo già lavorando a domicilio da alcuni giorni e l'attivazione presso i siti di riferimento avverrà già da domani, dopo domani con le prime chiamate che sono già partite, entrerà a pieno regime con la conclusione dell'attività sugli operatori sanitari a partire da domenica a lunedì. Per quanto riguarda la vaccinazione del personale, qual è la situazione e se ci può dire qual è l'impatto che ha avuto la vaccinazione se c'è stato un reale decremento dei casi? Siamo in conclusione, ci sono alcune ultime code di categorie, alcune categorie residuali che si stanno ultimando, il grosso terminerà entro questa settimana, l'impatto al momento è più che positivo, positivissimo perché il numero di casi effettivamente sulle nostre strutture sanitarie è notevolmente calato, notevolmente ridotto, questo è stato testimoniare dell'ottima efficacia dei vaccini. C'è stata anche una rimodulazione quanto riguarda i nosocomi della SNAPOLI 3 Sud, qual è stato il motivo per cui si è spinto su questa rimodulazione? L'obiettivo è cercare di efficientare il sistema al massimo, quindi quello di andare a far convergere le forze in quei nosocomi dove abbiamo la possibilità di creare più posti letto possibili. La scelta ad esempio di convergere ancora di più su Bosco Tre Case e da tempo che diciamo che avevamo un programma ambizioso di incrementare ancora di più i posti letto per area Covid è stata ultimata. In questo momento noi avremmo la capacità di attivare su Bosco Tre Case oltre 110-120 posti letto. Naturalmente per farlo ci serve forza lavoro importante. In conclusione si parla di possibile zona arancione qui in Campania, qual è la situazione sul territorio regionale anche in considerazione della variante inglese di cui tanto si parla? Abbiamo casi in aumento, il nostro territorio è uno di quelli che presenta una maggiore incidenza soprattutto in alcune aree geografiche. Sono stati quindi già prelevati alcuni campioni di alcuni soggetti, in alcuni casi a campioni, in alcuni casi quelli che rappresentano delle tipicità particolari di positività proprio perché vengono esaminati presso le strutture regionali di riferimento sequenziando i tamponi acquisiti al fine di capire se c'è la presenza di varianti diverse rispetto al ceppo originario del coronavirus. Torre del Greco è pronta ad iniziare anche la successiva fase di vaccinazione degli ultra-ottantenni. Lo ha affermato il sindaco Giovanni Palomba che questa mattina, insieme alla giunta comunale, ha approvato la delibera numero 15 del 19-2-2021 con la quale il comune di Torre del Greco assegna, in via provvisoria per la durata di otto mesi, i locali al piano terra dell'ex orfanotrofio della Santissima Trinità all'Als Napoli 3 Sud. per l'attivazione del punto di vaccinazione territoriale contro il Covid-19 per la città. Nello specifico, il comune dà in concessione i locali con annessaria parcheggio esterna accessibile da via circunvallazione, mentre l'azienda sanitaria locale provvederà agli opportuni interventi di carattere provvisorio e non strutturale, necessari al fine di rendere gli ambienti idonei alla destinazione. Dopo l'avvio della campagna vaccinale al personale scolastico docente e non docente presso l'Istituto Giacomo Leopardi, plesso Giovanni Paolo II, l'Asl provvederà ad approntare un opportuno cronoprogramma con i relativi tempi di somministrazione vaccinale, in modo che si potrà partire anche con il resto della popolazione, con una postazione facilmente raggiungibile ed efficiente, prontamente messa a disposizione della città, ha concluso il sindaco Giovanni Palomba. Un'importante iniziativa solidale che parte da Torre del Greco ed arriva in Albania. L'IRT ha raccolto l'appello e girato la richiesta alle imprese locali. La ditta Fratelli Balsamo ha risposto presente, donando ad un istituto religioso un automezzo che domani, con un traghetto, da Bari arriverà in Albania. Tutto nasce dall'esigenza di trasportare un gruppo di piccole studentesse che dai monti albanesi tutti i giorni attraversano ben 15 chilometri per arrivare alla struttura. Abbiamo raccolto la richiesta d'aiuto di un istituto religioso in un piccolo comune sulle montagne albanesi. Questi bambini sono circa 20 ragazzine che tutti i giorni percorrono 20 chilometri al giorno dall'andata e ritorno per andare a scuola ed esposti a tutti i pericoli noti in quelle zone. Abbiamo girato all'imprenditoria territoriale questa richiesta e hanno risposto prontamente la società Balsamo, dei Fratelli Balsamo. Hanno donato questo automezzo, lo abbiamo adattato alle esigenze dell'istituto. Domani mattina porteremo questo automezzo a Bari, lo imbarcheremo per l'Albania e lo consegneremo direttamente alle suore. Un segnale importante anche per una zona così particolare? Certamente, certamente. Io credo che siamo stati aiutati in tanti momenti particolari in nostro territorio. Vedi l'emergenza Covid, il terremoto e quant'altro. Questa gente merita che anche noi ricambiamo nel nostro piccolo, questa loro piccola richiesta. Vincere per voltare pagina, è questo l'obiettivo della Turris, attesa da una gara di vitale importanza. I Corallini saranno ospiti in casa della Paganese, in quello che si preannuncia un derby dal clima rovente. La squadra di Fabiano, infatti, si vede costretta a portare a casa i tre punti, per cercare di tenere a distanza di sicurezza la zona play-out, che, con i risultati delle ultime settimane, si è avvicinata in maniera pericolosa. Sicuramente i padroni di casa cercheranno di guastiare i piani della squadra di Torre del Greco, visto che un'eventuale vittoria potrebbe aprire scenari interessanti in chiave classifica. Il match si disputerà allo stadio Marcello Torre alle 17.30. Il fischietto sarà affidato a Marco Saia della sezione di Palermo, quadruvato dagli assistenti identico e Belsanti. Un match che, unito alle prossime partite in programma, rischia di poter indirizzare anche il futuro del tecnico Franco Fabiano. Il solo punto conquistato nelle ultime sei giornate di campionato ed una vittoria che manca da fin troppe settimane non possono essere visti come una semplice e comprensibile flessione. Ma è chiaro che una vittoria potrebbe scacciare ogni fantasma sulla panchina. Scenario, quello del cambio di guida tecnica da evitare, che potrebbe rendere ancora più arduo il già complicato girone di ritorno. Non potranno essere della partita gli squalificati Reinone e Romano, puniti dal giudice sportivo, rispettivamente con due ed una giornata di campionato. Il tecnico si affiderà dunque al resto del gruppo a disposizione, chiamato ad una prova di forza mentale ancora prima che tattica. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Queste erano le parole che pronunciò Neil Armstrong dopo aver lasciato l'impronta del suo stivale per la prima volta sul suolo lunare. A distanza di più di 50 anni però, l'uomo non è sazio. Quella perenne ricerca dell'ignoto, dello spingersi oltre, ha portato la NASA a lanciare su Marte, non con poche difficoltà, il rover Perseverance. Il segnale dell'atterraggio sul pianeta rosso è arrivato a distanza di 11 minuti dall'evento, a causa di un ritardo nella comunicazione. Ma ieri, intorno alle 21.55, ore italiana, si è scritto un'altra pagina di storia. Touchdown confirmed, esclama Swati Mohan dalla sede JPL della NASA a Pasadena, California. Dopo l'esternazione tremendamente americana legata allo sport nazionale e il football, si è elevato un lungo applauso dal centro di controllo. Grande emozione da parte degli ingegneri che hanno visto, attraverso i loro schirmi, il rover Perseverance atterrare nel cratere GiaZero, uno dei luoghi più suggestivi per una missione che va in cerca di tracce di vita, perché è il bacino di un antichissimo lago. Questo significa che nei sedimenti potrebbero ancora conservarsi tracce di forme di vita passata. A cercarla sarà anche un piccolo gruppo di ricerca italiano dell'Osservatorio dell'Istituto Nazionale dell'Astrofisica. Per due anni il rover setaccerà il suolo per raccogliere i primi campioni destinate ad essere portati sulla Terra. I campioni raccolti da Perseverance saranno inseriti in contenitori e depositati in luoghi precisi. Il recupero è affidato alla missione prevista nel 2026 e nel 2031. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Sacoccia, riferendosi al ruolo importante che la ricerca e l'industria italiana rivolgeranno nella staffetta di missioni che dal 2026 si susseguiranno fino al 2031 per portare sulla Terra i campioni del suolo marziano raccolti da Perseverance, ha affermato. Cominci una missione complessa e ricca di obiettivi importanti, anche per portare l'uomo su Marte. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. Grazie e buon weekend. Grazie a tutti.